La cultura corrente non sviluppa con una crescita sana dell'uomo. Non abbiamo una formazione orientata al bene comune, ma all'individualismo, al consumismo. I genitori hanno l'obbligo gravissimo di impartire una sana e giusta educazione. L'educazione deve preoccuparsi della formazione del carattere, sviluppando il valore dell'autocontrollo. Fortezza e amore, possiamo dire, sono i DNA del bravo genitore che, partendo dal concetto che l'educazione inizia dal seno materno, deve preoccuparsi della formazione del carattere, riscoprendo le piccole virtù. I fioretti che, oltre ad essere una preghiera di offerta, sviluppano il valore dell'autocontrollo. Educare, quindi, all'ordine della pulizia, della puntualità, a rinunciare a un celato per i bambini poveri, a prendere quanto raccolto nel salvadanaio e personalmente andare alla posta per la spedizione ai missionari. Piccole cose, ma che formano la volontà e il cuore. Il ragazzo diventerà uomo se avrà fatto l'esperienza del silenzio, del dolore, del sacrificio, della gioia, dell'amore dei fratelli. Il silenzio. In questa società chiassosa è necessario educare, cercare lo spazio del silenzio, di riflessione. Il silenzio concentra, focalizza, renda profondo, impedisce di abitare fuori di se stessi. E' qui una posticina come si vive fuori, stando in casa. Basta prendere il telefonino e si spazia per le lette del mondo, eppure si sta dentro. Un po' di silenzio anche col telefonino. Il dolore ci fa sensibili e ci dispone ad amare. Solo chi piange può comprendere gli altri. Se si vogliono dei figli sani e umani, è bene che visitino gli ospedali, le case di cura, i postatori degli handicap. Dagli ospedali si esce migliore, più pazienti, più forti, più comprensivi, più incline alla preghiera. Il sacrificio. Forse il difetto basse dell'educazione di oggi sta nel fatto che si allevano molluschi e non ragazzi grintosi, che sappiano misurarsi con la vita reale. Si dà un'educazione a base di latte e miele. La gioia. Senza gioia non si vive, non si cresce, non si educa. La tristezza frena, snerva, uccide. Educare i giovani ad essere costruttori di pace, ad avere l'assillo continuo di come rendere felici gli altri. L'amore. Ogni uomo ha bisogno di avere un posto nell'altro. Se manca il rapporto con il prossimo, si mettono le premesse infallibili per una vita povera ed infelice. Di solitudine si muore. Educare a dialogare sempre, a sentirsi responsabili dell'altro, a guardare a chi ci è vicino e a pensare a chi è lontano. I genitori non solo devono amare i figli, ma glielo devono dimostrare. I figli aspettano molto l'arrivo del papà e il padre deve scatenarli. Deve essere come un ciclone di gioia. Deve giocare con loro, portarli a fare una commissione, prendere in giro bonariamente la mamma, che è una singolare manifestazione d'amore. Non basta mettersi in pantofole, sedersi e ascoltare le lezioni. I figli non vogliono sentire l'operaio stango, vogliono sentire il padre. La mamma e il papà rientrano a casa, devono lasciare la tuta o il camice del lavoro per fare rifulgere il vestito convinzionato da Dio, quello della paternità e maternità.